Proviamo a immaginare questa brocca quando brillava sulla tavola di una casa etrusca. Era chiamata oinocoe, che viene dal greco oinos, vino, e cheo, che significa versare. Quindi il nome ci dice che era utilizzata per versare il vino. Ha una forma particolare detta trilobata, ovvero con tre lobi. È una caratteristica di questo tipo di brocca che probabilmente serviva a versare il vino con più facilità. Ne vedrete molte con questa forma nel museo.